La magia della 24 ore ludica torna a Concesio. Ora è in corso l'evento dalle ore 16 di sabato 23 marzo alle ore 16 di domenica 24 marzo. Dopo il successo della prima edizione, con più di mille partecipanti, la biblioteca di Concesio, insieme ai giocatori malmostosi, Orso Pilota, Teca Play e Tempio Ludico, è lieta di annunciare il ritorno dell'attesissima 24 ore ludica. Con l'amichevole partecipazione speciale del collettivo di giocatori ipuzzillanimi, l'evento promette di essere un paradiso per i giocatori di tutte le età. La seconda edizione sarà ricca di giochi per tutte le età, sia per appassionati che per neofiti. Fai ancora in tempo a partecipare! Grazie! Grazie! Grazie!